L'amministrazione comunale di Vibonati ha deciso di far cambiare rotta alle sue scuole, di abbandonare l'istituto comprensivo Santa Croce di Sapri e di annettere infanzia, primarie e medie alla Dante Alighieri, cheppure ha sede a Sapri. Una decisione che non è stata condivisa con la preside e i docenti e nemmeno con i genitori. Tutti hanno appreso la notizia soltanto mercoledì sera, quando qualcuno si è trovato a leggere l'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Difatti l'argomento è al punto 12 della seduta, fissata per il prossimo 27 dicembre alle 16 presso la tendostruttura allestita alla frazione Villammare. Le famiglie sono indispettite perché, dicono, non siamo state informate di nulla, abbiamo tenuto un incontro con l'amministrazione martedì scorso proprio per discutere del futuro della nostra scuola e nessuno ci ha riferito della volontà politica di abbandonare l'istituto Santa Croce. Sorpresa anche la preside Paola Migaldi e l'intero Consiglio d'Istituto del Santa Croce, che si sono già attivati per chiedere chiarimenti e definire le azioni da intraprendere per soddisfare le richieste che giungono dai genitori di Vibonati, che chiedono di poter andare avanti con la stessa direzione scolastica. Anche i consiglieri di minoranza tendono di avere chiarimenti sulla scelta fatta dall'amministrazione del sindaco Franco Brusco e fin d'ora si dichiarano contrari all'ammissione con la Dante Alighieri. Vibonati ha una tradizione, le nostre scuole hanno una tradizione, sono sempre state legate all'istituto di Santa Croce, non vedo quali siano i motivi reali per poter fare un passaggio del genere. Ci batteremo in Consiglio Comunale contro questo provvedimento. Intanto l'amministrazione comunale di Vibonati ha previsto un incontro con i genitori e la preside per venerdì mattina.